Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video della serie Come vedete non siamo sulla lessia set per qualche problema Adesso se quell'altro pirla smette di nascondersi sbuca fuori da lì Ho impristinato un oggetto idiota Eh, sì, certo Io l'ho detto che si era incastrata Ecco sì Certo L'ho incastrata, sì Allora Eh, come vedete abbiamo cambiato mappa perché Allora, la lessia set ci dava qualche problema Sì, alla fine ho scoperto che poi eri Sì, era sia la mappa che il John Deere Infatti, come vedete, abbiamo preso il Deutz Warrior al posto del John Deere Perché era il John Deere che faceva calare di FPS Era quello che fosse un sburo però, che cazzo Adesso sta tirando dei lag perché come sempre lo ospita lui Ehm Ehm Ehm, niente abbiamo cambiato mappa, siamo sulla Tannenberg Adesso ve la faccio vedere un po' com'è Piccolina però abbastanza bella Cosa fai Vieni qua Ti corro drillo, eh Vabbè Dai, trebbia te, trebbia te Io mi prendo il mio Fend Allora, mappa piccolina Allora, mappa piccolina, abbastanza bella Ehm Ha delle belle cose Su TS c'è cosa mutato, quello che non senti i suoni, giusto? Sì No, sì, perché è entrata una persona Ok Quello ho sentito Eh, io no Allora, agganciamo il rimorchio Come ho detto abbiamo cambiato un po' di mezzi e attrezzi Ci siamo portati La maggior parte delle cose che avevamo nell'altra serie Però Qualche mezzo l'abbiamo cambiato Adesso qua non mi aggancia il randazzo Perché Non l'ho messo bene Ecco, adesso sì Me l'ho agganciato Allora Matteo sta andando a trebbiare il campo 1 Adesso Io arrivo col carro Ehm No, Fend Allora dobbiamo vedere Dove vedere il coso il carro Prendere la colazione nera Eh sì Allora Vediamo Questo è il primo campo Allora Questa mappa ha una bella cosa Che proprio mi è piaciuta Praticamente Come per la mood di mappa Se qualcuno la conosce Ehm Quello script che Ci sono le pozzanghere E il fango che schizza sui mezzi Scusate un attimo Ma non devi stappare un attimo Ecco Ok ragazzi Scusate per il taglio Allora Abbiamo iniziato A raccogliere la paglia Intanto Perché Matteo Comunque Prima che si riempie Ci passa Un'eternità Ehm Si Adesso lo vedete La Di sfondo Anzi Facciamo così Dai Ehm Lo vedete La In sfondo Che trebbia Però qua mi tocca andare A sei all'ora Se no si blocca Il pick up Del mangel Qua veramente Tocca andare A passo di lumaca Cioè alla velocità Di Matteo Deve dire Passo da l'elefante L'hai capita solo te questa No è perché doveva capire Hai capito Eh no L'hai capita solo te Comunque Non te Mi hai detto che Mentre c'è le cose lunghe Eh Perché quello è vero Infatti Ma non ce l'hanno lungo Sì Lasciate stare Matteo Ha un solo neurone Quando si sforza Poi Questo è il risultato Proprio A sua tespera Sei di me Mamma mia No però Veramente Se qua Faccio Tutta questa velocità Divento vecchio Prima di finire il campo Quando sei già vecchio Ma stai zitto Ti bec Ti banno Ah Ti banno Ragazzi Vanno in diretta Anzi No facciamo così Dai Buono A posto Sei contento ora No Giusto per Per far qualcosa Guarda Mi sta venendo sonno Andare a questa velocità Ah La mia velocità Eh Vai più o meno La mia velocità Sì Problema che Con Guarda che ti supero Appunto Se vado più veloce Si blocca Ecco Si è già bloccato Lo stesso Quarta volta Che si blocca Te pareva Te pareva Dai che Ci manca Quel Che litro E poi è pieno Il desertante Gliel'hai messo No No perché Con la paglia Non serve E' astuto Ok è pieno Allora Non sei buono Proprio a caricare La barra No ci provo Occhio Occhio Voglio proprio Vedere cosa Salta fuori Vai Chiuditi Va Vediamo cosa Combina Vediamo Io non si richiude Con X La trebbia Sì L'hai selezionata Sì È vuota No E allora Ha Ha Smesso Guardate Che persona Che personaggio Ha smesso Di uscire Dal tubo Di scarico Tanti Sto tubo È bello lungo No Eh no No È il tipo Di cose Che ti attirano Matteo Lo sappiamo Adesso qua Io non ho ben capito Dove cavolo È la vendita Della paglia Adesso giro Un attimo Se la trovo Ma non posso salutare Una persona No Dai ti prego No Non ti rompi più il cazzo No Dai ti prego No Dai No Eh Ti farei No Ma che problemi hai Eh Ha tanti problemi Se tu non l'hai capita Comunque c'è anche Martin Chiesa Ciao Sì Salute Ecco Adesso non posso dirla È meglio che non la dici No che non puoi dirla Sì perché dopo Magari ci sono dei problemi piccolini Con te Ti passa un po' il pedofilo No più che altro Perché ti banno Se lo dici Qua no Non si vende Ok adesso giriamo Per tutta la mappa Per cercare il punto vendita Ma non la vendere Portano a casa la roba Ma dove la Eh la paglia Si ma non lo voglio Si ma non lo voglio Di buttare nel deposito Adesso No buttiamo nel deposito Manu No la voglio vendere No un deposito Io vedete anche dov'è no E quello lì ci siamo passati di fianco No Due Adesso ti faccio vedere Io volevo venderla Facciamo due soldi Ma no Abbiamo Abbastanza soldi Quindi adesso Inziamo a fare un po' di Trinidad de bar Trinidad de balacate Lo stersa questo qua Tu l'hai detto La Rocco Eh Come te Ecco la che mi ha detto Il mio bestione Che bello Eh Altro che quello Che avevi prima Lo di prima Era bello il clacson Quindi sei sito Ah no no Aspetta Matteo Eh Sarebbe qua il deposito Ma è da comprare Ora ce li abbiamo Fa vedere Vengono io E questo qua Questo qua da comprare Eh ma devo non comprare niente Fa vedere Costa 90.000 Sì che lo puoi prendere Dai prendiamolo Fermo fermo Voglio prima vederlo Ma dove sei? Dove Qual è il deposito? Questo qua Devi comprarlo Quel pallino lì vicino alla barra Questo? Sì E' quello lì da comprare Dove Dove è la scarica Scusa l'erba Dentro E' un deposito Se lo compri Dai compra Compralo te E non sei solito Ti so di te Tasto C Tu ti so di te To Guarda lì Ah Per fortuna che non ce l'avevo messo il clon Perché ce l'ho saltato per aria Aspetta Dobbiamo aprire le porte Carino Se magari non mi vieni addosso Ah così No No Non ti do questo piacere Ah che schiazzone Eh Esce simbolo di scarico Paglia non è un prodotto accettato qua Perché Oh adesso scarico Un colto della calcia Dove Questo Dove 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 Sì Ah Questo qua Sì Sì Quella roba lì Allora Qua Tre anni per scaricare come sempre Resto a fare qua Apro anche la porta di qua Dopo quando dobbiamo finire di scaricare qua Cosa Ok Ok Allora No Di qua Vabbè Ragazzi Ragazzi Perché se no Non erpicavo più Sarà Allora Finalmente siamo arrivati alla fine Cioè Raccogliere tutto il campo a 5 6 Allora Non si finisce più Qua Non dovrei tagliare Ma per stavolta taglio Ma non compra campo 2 Campo 2 Ok Non è tagliato Che poi No Tanto Abbiamo anche il campo 11 Che dovremmo andare a erpicarlo Perché c'è erba medica Potremmo fare tipo sovescio Non lo sfalcerei Perché poi dopo dobbiamo anche imballare Perché Dovemmo ancora comprare le vacche ragazzi Ma Matteo Non si può Non riusciamo a voltare L'erba medica Ti ricordi Dalla l'SZ A meno che qua Non si possa Facciamo triticale Allora Eh ma Dobbiamo prendere la trincia Non lo leggiamo Sì perché Vedete clover No ma al massimo Facciamo più avanti Dai Magari Facciamo un po' D'erba normale Sì Potremmo comprare 2-3 campi Ma sì dai Compriamoci 2 Adesso metto giù qua Il carro Il 3 Vedi te Ma io andrei Piano Andiamo col 2 Dai Allora Mettiamo giù Qua Il carro Che però Dovevo metterlo Di là Non di qua Vedete lì La seminatrice Abbiamo preso quella lì Anzi in realtà È quella che ci danno All'inizio Su sta mappa Poi dovremmo metterci anche a fare un po' appunto anche di balle di paglia Eh Mi è venuta in mente Perché poi Non ci siamo portati le vacche Beh Le hai vendite Eh Andiamo a ricomprarle Eh sì Stiamo facendo la latte o la carne? La latte? Sì Meglio Per la fresona? Mm Eh Eh fa come vuoi Qualche vuoi te Decidi te No Le musine da carne Mm Boh Andiamo a formarci meglio Prendere la fresona Oppure una mora romagnola Eh boh Prendi quello che vuoi te Ma di che colore è la mora romagnola? Ma chi se lo ricorda? Tanto tempo Che Faccio ste robe Non ne ricordo più Vorrebbe essere bianca Mi sa Boh Io non me ne ricordo più neanche una Allora qua Mi metto a seminare Cosa seminiamo? Intanto compro anche il campo Così mi metto già a seminare anche il 2 Facciamo Facciamo Io direi Orzo Facciamo un orzo Uno colza Va bene Ok Allora Magari facciamo questo qua più piccolo di orzo Dai Sì così facciamo due tre balloni Eh Ok E poi magari Dietro le quinte falceremo un po' d'erba Per fare un po' di balle di fieno Così ci prepariamo la prossima puntata Prendiamo le vacche Riprendiamo le vacche Ma comprende già una cinquantina Di già Tanto Allora Faccio Va bene No Perché si è inserito l'operaio? Allora Andiamo qua Ce le compriamo Sì Buon ragazzi Abbiamo comprato le vacche Adesso qua finisco di seminare E poi mi metterò a seminare colza Là nel campo 1 Matteo sta sistemando un po' i bancali Perché ha finito il lavoro che stava facendo Verificatura Sì Verificatura Ecco Non mi ricordo neanche cosa stavi facendo Perché Il resto l'abbiamo registrato ieri sera Pensavo di aver registrato tutto E poi Tac Il programma non mi ha registrato il finale Quindi lo stiamo rifacendo il giorno dopo Ma non ho fichato il tasto Boh Non lo so Non so Magari non ho schiacciato bene il tasto Vuoi dire Ma non l'Alzheimer L'Alzheimer No no Il tasto Mi ricordo che l'ho schiacciato Magari non l'ho schiacciato bene E non è partito Eh Eh Matteo Eh Vabbè dai ragazzi Direi che per questo video è tutto Eh Noi ci vediamo nel prossimo video Sul canale di questo Pirlone qua Pirlone Che tra l'altro Scorso episodio Doveva essere Sul tuo canale Ma Non c'è Giusto No Sì Non l'ho ancora editato Sinceramente Perché Ha provato Però alla fine Mi si è buggato il countaggio Dice che è ancora aperto Però alla fine Non era ancora aperto No Fammi sapere poi Se ti va o no Perché Cioè Anche per Mettere la numerazione del video Perché Se il tuo lo metti Si può ricominciare Eh boh Fatteci sapere boh nei commenti Perché Appunto Racconta Cosa è successo Ah no Niente Cosa è successo Niente di particolare Sono solamente Buggato Camtasia Nel senso L'ho indirizzato Fatto tutto L'ho salvato Non trovo neanche più i file Video Tutta quella roba lì Per chi edita Lo sa C'era più niente E niente Dice che era ancora aperto Ma non era ancora aperto Vabbè E quindi È un incognito Sto video lì Se lo vedrete Vuol dire che Ce l'ha fatta Editarlo Se no Vedrete questo qua Vedrete due episodi Di fila Su un mio canale Per stavolta E vabbè Niente ragazzi Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti E alla prossima Ciao 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 ciao